L'amministrazione comunale della città di Agropoli ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a migliorare la viabilità, la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade comunali. Nell'attuale programma di manutenzione si è previsto di dare fra questi interventi particolare importanza anche all'intervento di completamento della pavimentazione dei vicoli adiacenti Corso Garibaldi, via Monti, via Carducci, via Quintino Sella e dei tratti tra Corso Garibaldi e via Giolitti. L'obiettivo generale del progetto è la valorizzazione del centro storico attraverso il completamento della riqualificazione urbana e ambientale della zona centrale della città. Il progetto prevede un importo complessivo di 227 mila euro ed ha ottenuto il parere favorevole da parte della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino, nonché l'autorizzazione paesaggistica da parte del comune di Agropoli. Dunque con deliberazione della giunta comunale il progetto è stato approvato con la volontà dell'amministrazione di finanziare il suddetto intervento mediante mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti SPA, confermando come responsabile unico del procedimento il responsabile dell'area lavori pubblici, ingegnere Agostino Sica.